Ehi lura ragazze, mavala, sono Kamoin della Camera Biancorossa, bentornati in un nuovo appuntamento, scusate se nelle ultime settimane sono stato un po' poco presente ma ero un po' preso da diversi impegni quindi spero possiate perdonarmi se ancora non l'aveste fatto iscrivetevi al canale, attivate la campanella, mettete un bel mi piace, commentate il video, fate tutto quello che dovete fare, tanto ormai la solita solfa la conoscete Allora, commentiamo quelle che sono state le ultime novità di queste due settimane, anzitutto è ormai ufficiale, anzi è praticamente ufficiale che il nuovo direttore sportivo del Piacenza Calcio sarà Alessio Sestu Sestu che ha vestito la nostra maglia fino all'anno in cui abbiamo sfiorato la Serie B, ormai lontano 2019 perché quei fasti in cui si accarezzava il sogno di ritornare nella Serie Cadetta Sembrano così lontani nel tempo, Alessio Sestu che si è liberato dal contratto del Porto Gruaro che è appena retrocesso tramite play out in eccellenza È un profilo sicuramente che fa un po' discutere perché molti hanno rimarcato il fatto che si è appena retrocesso con il Porto Gruaro Ma che comunque è stata la sua prima esperienza dal direttore sportivo Io non voglio spingermi in dichiarazioni troppo ordite in un senso o nell'altro Ma comunque mi sembra che l'ex giocatore è stato fortemente evoluto da Marco Gatti E quindi io mi fido del fiuto di Gatti e spero che Alessio possa fare un ottimo lavoro come direttore sportivo Visto comunque il suo passato e il legame che è rimasto con i colori bianco-rossi Detto questo, la seconda grande notizia che potrebbe essere ufficiale già da martedì L'arrivo in panchina di Maccarone Il caro Big Mac come amavamo ricordarlo negli anni 2000 L'ex calciatore del Siena, Middlesbrough dell'Empoli Che ha segnato più di 200 gol in carriera Potrebbe essere veramente a un passo dall'accettare la richiesta di venire ad allenare a Piacenza Maccarone che reduce da un ottimo campionato con il Givi Borgo Squadra toscana che ha concluso ottava nell'ultimo campionato Una neopromossa che comunque ha fatto un campionato sicuramente sorprendente Ben oltre le proprie, quelle che erano le aspettative iniziali Anche questo è un profilo che sta già facendo un po' discutere Perché comunque quello che si vorrebbe avere in panchina come in cabina di regia Dovrebbe essere un allenatore con un certo profilo Che conosca la Serie D e che l'abbia magari anche già vinta Come i vari Gaburro ma anche Ciceri del San Giuliano Erano dei profili che sicuramente scuzzicavano di più le fantasie dei tifosi Maccarone però sembra essere un allenatore in rampa di lancio Sicuramente in ascesa Non è stata comunque la sua prima esperienza d'allenatore Perché già aveva fatto il vice di Baldini a Carrarese diversi anni fa C'è alcuni anni fa, fino al 2020 E' un allenatore sicuramente che propone un calcio molto offensivo Un 4-3-3 con gli esterni che spingono Mi viene in mente, quello che amerei sarebbe un profilo alla Vincenzo Italiano Perché è l'allenatore della mia seconda squadra che tifo Ma sicuramente un calcio offensivo, un bel gioco Che punti molto alla sfera offensiva E' un qualcosa che stuzzica personalmente le mie fantasie Detto ciò bisognerebbe vedere se questo possa essere funzionale Alla vittoria del campionato di DD Che spesso passa anche dalla fase difensiva Che bisogna avere delle bocche di fuoco davanti E dei muri in difesa Perché altrimenti, come abbiamo visto quest'anno In Serie C Non si va da nessuna parte Se non hai le spalle ben coperte Sono comunque sicuro che la società sappia Dove sta muovendo i propri passi Sicuramente diverse teste, quelle dei soci E' difficile conciliarle in toto Quelle che sono le idee di ciascuno di essi Ma sono convinto che Qualora dovesse esserci maccarone Alla guida tecnica della squadra Che possa fare un ottimo campionato E riportarci dove meritiamo Cioè nei professionisti Maccarone da giocatore mi faceva impazzire Cioè era uno di quelli che al fantacalcio Lo volevi sempre avere Perché era uno che segnava tanto E che sicuramente la sua propensione d'attaccante Si rispecchia molto nel gioco Che ha dimostrato nell'ultimo campionato Queste sono un po' le notizie principali Relative ai movimenti in area bianco-rossa L'ex scalise si è già prodato in un'altra squadra L'ex allegatore Molti Bisognerà vedere anche cosa succederà Con quelli che sono i calciatori Che sono andati in prestito Penso a Bitters che ha appena vinto il campionato col Catania Diversi giovani Ricordiamo che l'anno prossimo Si dovrà giocare con 5 under in campo su 11 E quindi anche pescare qualche elemento Dalla primavera che ha fatto bene nell'ultimo campionato Speriamo che possano dare un ottimo contributo Anche perché comunque la D è un campionato Nel quale purtroppo Puntare troppo sulle scommesse per vincere Non porta da nessuna parte Quindi bisognerà investire molto sui giovani E sui giovani giusti, pronti e forti E su quelli che sono dei veterani Che conoscono bene il campionato Io mi ricordo che al tempo della D avevamo i vari sentinelli Cazzamalli Tutta quella gente che faceva veramente la differenza Quindi io sono comunque fiducioso nella società e nell'operato Vedremo cosa succederà nelle prossime giorni Nelle prossime settimane Aspettiamo di ricevere buone notizie Fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti Scusate ancora una volta se non vi ho aggiornato Ma aspettavo anche che ci fossero delle notizie un po' più ufficiali In Casa Biancorossa Fatemi sapere la vostra Vi mando un caro saluto Una buona serata E rimanete sintonizzati Perché ricomincerò con più frequenza a fare video Un caro saluto E a presto da Giovanni Grazie a tutti